Carissimi amici, lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di ospitare la prima edizione del Festival delle Regioni in Lombardia. Quest'anno tocca al Piemonte per la seconda edizione. A Torino, luoghi simbolo della storia d'Italia, ospiteranno incontri istituzionali incentrati su temi di grande attualità che coinvolgono tutte le amministrazioni regionali d'Italia, mobilità, logistica, energia, ambiente, sanità, innovazione, reti della conoscenza e della ricerca. L'appuntamento di Torino sarà occasione anche per un focus sui grandi eventi, imperdibili occasioni di attrattività che dalle realtà locali generano benefici diffusi per tutta l'Italia. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per toccare le tante sfide che ci vedono protagonisti, nel presente come nel futuro. Ringrazio il Presidente Alberto Cirio e tutta la Regione Piemonte, il Presidente Massimiliano Feidriga e tutta la Conferenza delle Regioni e ringrazio i numerosi rappresentanti del Governo che anche quest'anno parteciperanno a questo grande evento. Attendiamo le proposte e ci prepariamo a mettere a frutto tutte le opportunità di crescita nell'impegno sempre condiviso di migliorare le risposte ai nostri cittadini. Grazie e che Festival delle Regioni sia!